L'associazione Lesina Laguna di Puglia è un network di strutture extraalberghiere che contano circa 120 posti letto e questa associazione nasce con l'intento di valorizzare e sviluppare il prodotto turistico lesinese, infatti siamo qui alla BIT di Milano per la prima volta in questa nostra prima uscita, per proporre nuove itinerari turistici. Per la prima volta il prodotto di Lesina turistica sbarca alla BIT, siamo riusciti a mettere insieme non solo le strutture ricettive ma anche un insieme di escursioni che facciano conoscere le bellezze del nostro territorio, della Puglia Nord, quindi non solo i dintorni di Lesina ma anche comuni che sono limitrofi al territorio stesso, quindi abbiamo inserito sia San Severo col barocco e le cantine ipogeiche e anche le bellezze di Lucera candidata a capitale della cultura.